è stupido il signor da stilesse lo provo ora ho la versione dorata e la caretta con questa conna in paliette molto scelodabile guardi che bene le faccio subito lo scontrino ok? per i fiosi A.S.M.R.D. ok allora questo qua questo di qua e questo guarda le crocce rovescio a rovescio ma è un vizio questo è un vizio io non so cioè veramente salve signora salve andava bene questo? perfetto ok perfetto 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 le do una borsina ok no? perfetto sono 19,99 grazie 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 pure feste signora arrivederci si esistono queste gocce rovesci non se ne può più salve signora salve mi dica pure mi dica pure salve lei cercava un vestito uno per Natale e uno per l'ultimo dell'anno ma voleva pantaloni o vestito proprio vestito vestito allora iniziamo con Natale allora allora io le volevo proporre un vestito che è un nostro nuovo a vivo che è questo qua guardi che bello è più o meno è rosso nero è stupendo questo qua questo è veramente fantastico e wow ok poi le volevo far vedere questo che è un è un nostro must have di tanti anni fa che però lo hanno riproposto si si questo qua c'era tanti anni fa è il classico rosso di pinzo vedi però lo hanno riproposto poi le volevo proporre un abito rosso questo qua è stupendo il signor la stilessi lo prova questo è veramente veramente ottimo questo qua sì lo avevamo anche in nero in velluto con le con gli strass però le mie ho finito ci è rimasto solo questo qua tagli in sess e anche la sua taglia le piace questo volevo proporre anche un'altra alternativa allora è il classico abito rosso di raso rosso fantastico questo qua questo nostro must have come come vedete ok ecco la una bella giacca di palette palette nera che farebbe un bellissimo completino guardi signora che bel completo che fa questo qua è più da discoteca diciamo che questi sono un po' più da giorno per andare non lo so a mangiare fuori o con i parenti questa qua è più per la sera se lei decide dopo la sera di andare da qualche altro posto le posso propone questo qua che farà sicuramente un figurone ok bene se lo vuol provare questo e questo le va da provare facciamo così tenga per ecco si si ok ok dopo cosa volevo vedere di bello per l'ultimo dell'anno ah volevo dire che se per natale lei magari non si vuol vestire proprio di osso volevo proporre anche questo topino fantastico guarda guardi quanto è bello fantastico questo top e che lo abbinava a questa stupenda donna molto molto bella bellissima ecco questo qua è fantastico guardi che bel completo mi fa signora l'olente va bene nessun problema allora lei mi diceva per l'ultimo dell'anno ok allora le volevo proporre come prevenzione questo bellissimo vestito da abbinare sempre con coprispalle di paliette questo qua che è molto semplice non ha è a spallina fina come puoi vedere è molto molto poi allora le volevo proporre due abiti a manica lunga che ho in versione argento e in versione dorato allora questa è la versione argento molto molto bella guardi come è bella signora la versione argento se vuoi provare è bellissimo poi ho la versione dorata che è sempre uguale all'altro eccolo qua bello questo è molto molto scelovato si si è bellissimo allora un attimo che io lo faccio vedere appottonato eh perché qua si provano i capi e non li e non li chiudono porti pazienza eccolo qua questa versione dorato e argentato eccolo qua ok poi vediamo se proprio può optare per questo top super fantastico da abbinare e da abbinare a questa colla in paliette molto scelodafica guardi che bel completto è stupenda la vuoi provare va bene le faccio provare questo poi volevo provare il dorato l'argentale il dorato ok ecco questa fantastica lette con retata che la può mettere sopra un abito rosa color antico è veramente molto fantastico non mi interessa va bene allora le ho dato tutto e ci vediamo dopo ok grazie grazie signora grazie ci vediamo dopo ma si figure e questo non va bene questo no questo è quasi me lo metto in parte questo mi piace davanti si si ha bisogno la taglia di questo e guardi adesso controlliamo se ce l'abbiamo ok allora queste taglie disponibili online se vuole gliela mettere nel carrello ah perché gli serviva subito ma io allora semmai io gliela metto nel carrello le mi da la sua mail e poi decide tranquillamente da casa se la vuole acquistare o no ok mi dica pure la sola mhm perfetto ok grazie 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 eccoci eccoci bene allora abbiamo fatto scorta signora vedo che mi è piaciuto tutte le opzioni che le ho consigliato bene le faccio subito lo scontrino ok ok allora andiamo a la nostra applicazione allora bene una o il d pure che la passo perfetto grazie le passo subito ok come va come va cosa fa cosa fa per le queste signora a mangiare fuori bene 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 sono contenta no io vado a mangiare dei miei e poi e poi vado a ballare sì e anche l'ultimo dell'anno sì andiamo a casa di amici sì sì andiamo a casa di amici certo e poi andiamo a ballare no io adoro ballare quindi non posso ballerlo ecco va in montagna 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 mi fa piacere mi fa piacere bellissimo ecco ok la borsina sì bene ok allora le dico quanto ha sono 129 e 70 sì ok l'ho stampato lo scampino gliel'ho già messo in borsa ecco ecco perfetto prego grazie signora grazie mille e buone feste a lei signora buone feste arrivederci arrivederci ecco